Avrà luogo il 4 gennaio con inizio alle ore 18 presso il castello Macchiaroli di Teggiano il gran concerto dell'Epifania giunto quest'anno alla sua quarta edizione promosso dall'Associazione Culturale e Musicale Città Vallo di Diano. L'iniziativa inserita all'interno della manifestazione e intorno al presepe itinerario tra luci e storia è sostenuta dal comune di Teggiano, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dalla Banca Montepruno.